Ressa il dato di risultato incredibile, una forza politica freschissima che si è costituita formalmente 6-7 mesi fa che ha avuto a disposizione una campagna elettorale ad agosto per farsi conoscere in un contesto in cui non c'è stato confronto tra i leader perché i leader dei più grandi partiti hanno rifiutato di confrontarsi con Carlo Calenda in un contesto come questo una prima uscita che già ti consente di garantire un risultato e anche fosse dell'8% sarebbe comunque qualcosa di incredibile e in qualche modo premierebbe una proposta politica basata sulla responsabilità che non possiamo dimenticare che dalla destra alla sinistra nel Movimento 5 Stelle c'è stata una promessa alla spesa alla spesa poi i programmi delle altre coalizioni costano tra i 100 e i 200 miliardi in un contesto in cui servono domani 60 miliardi per intervenire sulle bollette del gas quindi da una parte c'è stato chi ha fatto una campagna elettorale seria e responsabile puntando ai problemi delle persone e delle imprese dall'altra parte ci sono stati tutti gli altri che attraverso l'esaltazione di un bipopulismo che parla alla pancia delle persone, non parte dal cervello, all'intelligenza delle famiglie e delle imprese hanno promesso di tutto di più è un primo passo di un progetto politico che avrà futuro e che in qualche modo porterà avanti la linea della responsabilità attraverso un dialogo concreto, corretto, serio e responsabile con i cittadini vorrei poi fare una considerazione sull'astenzione siamo tutti sorpresi e sconvolti da questo dato dell'astenzione ma io lo sono molto poco perché nel momento in cui non mettiamo in condizione centinaia di migliaia di giovani studenti fuorisedi di votare e nel momento in cui priviamo le persone della possibilità di scegliersi i propri eletti in Abruzzo 4, 5, non so quanti, non saranno abruzzesi avremo probabilmente una rappresentanza locale di 6, 7 parlamentari nel momento in cui si è consumato un espropo della democrazia come quello che si è consumato con questa legge elettorale io penso che se il ceto politico si sorprende di questo assenzionismo così elevato commette un errore io penso che la Meloni con la forza elettorale che ha se ha un minimo di senso di responsabilità in Parlamento il primo progetto di legge che deve presentare è quello di modifica di questa legge elettorale perché non è possibile parlare di questa legge elettorale che fa schifo a detta di tutti soltanto quando ci si avvicina l'elezione deve essere il primo atto formale presentare un progetto di legge che restituisce la rappresentanza ai territori e che restituisce ai cittadini la possibilità di scegliersi i loro eletti A proposito di legge elettorale con questo quadro il seggio per voi potrebbe scattare, diceva, alla Camera? Io penso di sì ho visto che con il 7,3% scattano 19 parlamentari Io sinceramente penso di poter arrivare, che Cazzione possa arrivare a un risultato molto superiore non ci dimentichiamo che il collegio per la Camera è un collegio nazionale quindi i conteggi fatti a livello locale valgono fino a un certo punto se il risultato dovesse confermarsi o addirittura attestarsi intorno all'8% il candidato capolista alla Camera, Giulio Cesare Sottanelli, al plurinominale avrebbe tutta la possibilità di essere eletto però, ripeto, in questo momento esprimo un auspicio, non ancora dei parametri oggettivi per poter esprimere una valutazione certa